Sta crescendo in maniera esponenziale, si arricchisce edizione su edizione, non solo rappresenta le eccellenze del rado alimentare, delle erbe aromatiche, della capacità di trasformazione con grandi testimonianze della cucina e della gastronomia, ma vi è un afflato di tutto il territorio, di tutte le attività economiche, quindi è uno sforzo corale dal basso che trascina un grande entusiasmo come visitatori sempre più numerosi italiani e stranieri. Credo che questo sforzo del Comune di Aromarina, della situazione in categoria, della Camera di Commercio che è sempre stata fin dall'inizio della ripartenza presente, con il contributo di idee, oltre che finanziario, meriti una continuità e sempre maggior impegno sforzo perché i risultati sono di grande migliori cemento.